Oggi parliamo di Cari ascoltatori di Radio Calaritana, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Chi vi parla è Roberto Sedda e come sapete questa è l'ambiente, lo spazio, il salottino potremmo dire che la radio dedica ogni settimana a parlare di libri. Per cominciare la nostra puntata vorrei descrivervi una scena, credo una scena di grande suggestione e anche una scena per alcuni aspetti inquietante. Immaginate un treno che attraversa la gelida pianura russa. Io me la immagino come una pianura innevata, in realtà il romanzo non dice niente della stagione, del periodo estremamente avaro di particolari, ma certamente è un treno che viaggia in una solitudine sconfinata. Di notte è buio, la lampada e lo scompartimento è spenta, tanto che i due occupanti dello scompartimento parlano tra loro ma non si vedono in faccia. E siccome praticamente solo uno dei due parla e racconta, mentre l'altro ascolta, è come se una voce che proviene da non si sa dove racconti una storia terribile nel vuoto. Perché è una storia terribile? Perché chi parla è un assassino, anzi forse peggio, è un uxoricida come si scopre già dalle prime pagine, non vi sto rivelando niente, e racconta al sempre più stupefatto, al sempre più atterrito interlocutore come fu che egli uccise la moglie. È un'ambientazione di grande suggestione, come vi dicevo, ed è l'ambientazione che fa praticamente da sfondo unico a un romanzo breve di Tolstoi che si intitola Sonata Kreutzer. La Sonata Kreutzer è un componimento musicale di Beethoven. Esso fa da sfondo, diciamo, da punto di riferimento per un momento essenziale della vicenda che questo narratore sconosciuto, quest'uomo alto, vecchio, anziano, che viaggia col treno, racconta al suo interlocutore, che anche il narratore si suppone che sia Tolstoi stesso, anche se in realtà non è chiaro, perché anche chi racconta la storia esprime le opinioni di Tolstoi. Per questo poi ci ritorneremo. È un po' un gioco delle parti, un gioco degli specchi, come tanto altro in questo romanzo. Com'è stato che l'uomo ha ucciso la moglie? Beh, la spiegazione formale è quella, o la spiegazione più evidente, è quella che l'ha fatto perché era terribilmente geloso. Perciò il tema del romanzo è, in prima battuta, apparentemente quello della gelosia, come una passione irresistibile che sconvolge, al quale non si riesce a porre rimedio e che poi conduce ad atti terribili come l'omicidio. In realtà la questione è un po' più complicata. Vi ho accennato al fatto che il romanzo è in qualche modo un gioco di specchi, un gioco di rimandi, legato al fatto che in realtà già da subito il narratore misterioso dice al suo interlocutore che prima di spiegare come fu che egli uccise la moglie deve spiegare chi è, come è cresciuto, come è stato educato e perciò anche che cosa lo ha condotto a quella passione travolgente di gelosia e infine all'omicidio. In questo modo il narratore solo apparentemente racconta la propria biografia, o almeno parte della propria biografia, ma in realtà soprattutto narra di una profonda sofferenza interiore. Una sofferenza che è legata a un travaglio, a una incomprensione, a un sentirsi fuori posto nell'ambito della vita sociale e delle convenzioni sociali. In un certo senso il narratore è sia un dissociato sia un esule all'interno della società, costretto a osservare regole nelle quali progressivamente non si ritrova. Ma questo magari ve lo spiego meglio. Dopo la pausa musicale ho scelto per stare in argomento una canzone di John Lennon, Gilus Guy, cioè l'uomo geloso, il tizio geloso. L'ascoltiamo e poi riprendiamo a raccontare di questo romanzo di Tolstoi. Questo era John Lennon che ci raccontava di un uomo geloso e un uomo geloso è anche il protagonista o uno dei protagonisti della sonata a Kreuzer di Tolstoi. Notavo adesso, mentre ascoltavo la canzone, che in tre stagioni di Oggi parliamo i libri non ho parlato mai di Tolstoi, poi in poche settimane abbiamo dedicato poco tempo fa una puntata a Anna Karenina e oggi chiudiamo, perciò in una posizione anche di onore, chiudiamo l'intera stagione con un altro romanzo dello stesso romanziere. Sono in realtà però due romanzi legati a momenti profondamente diversi della vita di Tolstoi. Il primo è il momento in cui è un romanziere di successo, diciamo beniamino dell'opinione pubblica russa, famosissimo in patria e all'estero. Questo invece romanzo, molto più breve tra l'altro, si colloca in una fase in cui Tolstoi ha avuto una profonda rivelazione diciamo cristiana, religiosa, basata sui Vangeli ma che contemporaneamente l'ha portato all'abbandono della Chiesa ortodossa in favore di una ricerca più personale in cui tutta la sua arte è volta diciamo alla esplicitazione di temi morali. E anche in questo romanzo questa è una dimensione molto molto forte, molto presente perché il narratore, quest'uomo senza volto che racconta dell'omicidio di sua moglie, in realtà soprattutto si lamenta. Si lamenta è la società, una società in cui come vi dicevo non trova posto, una società che fa del matrimonio un mercimonio, una società in cui i rapporti sessuali sono non regolati o comunque diciamo in realtà il modello che ha in mente Tolstoi e che ha in mente anche il suo personaggio è un modello di continenza più o meno assoluto. Non a caso il romanzo si apre con la citazione da Matteo al capitolo quinto, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore e si dice chiaramente nel romanzo questo non vale per uno che guarda una donna diversa dalla propria moglie, vale per chi guarda qualunque donna. Perciò capito è una posizione estrema, come sono estreme tutte le altre posizioni anche se profondamente spirituali e potremmo dire morali, ma sono estreme tutte le posizioni che questo narratore manifesta. Ed è proprio questo desiderio straordinario, estremo di una purezza di vita, una purezza di vita in tutti gli aspetti, che lo porta a essere una persona di fatto instabile. La sonata Kreuzer, prima ancora che il racconto di un omicidio, e vi ho detto che il tema è quello della gelosia, in realtà è un po' barato perché rileggendo il romanzo proprio oggi mi sono reso conto che il tema è quello di un odio, di un matrimonio che va male, di due persone che causano reciprocamente la propria infelicità. Voi capite che questo è un argomento piuttosto ostico, un romanzo forse duro da leggere. D'altra parte abbiamo dedicato un'intera stagione a belle storie d'amore, storie d'amore finiscono più o meno bene, ma sempre in cui l'amore è visto come un elemento positivo. Volevo anche in questo ciclo chiudere con una puntata che ci ricorda che talvolta l'amore crea sofferenza, che talvolta l'amore è un fallimento. Chiudo con un'ultima osservazione sul romanzo, che è di tipo stilistico potremmo dire, o per far notare una dimensione che mi ha molto colpito. Cioè i personaggi, soprattutto quest'uomo che racconta la storia, si muovono come in un labirinto, diciamo. Intendo dire questo. A un certo punto, mentre lo rileggevo e pensavo a quello che dovevo dire in trasmissione, ho pensato ma tutte queste lunghe parti in cui si filosofeggia, in cui si enuncia come ci si dovrebbe comportare, come dovrebbe essere regolata la società, se bisognerebbe essere completamente casti perché questo, perché quello, eccetera. Forse queste sono parti un po' datate, scusate la battuta, e forse si potrebbero anche saltare. Mi sono reso conto però che in realtà se non si leggono queste non si capisce tutto il resto. Così come vi ho detto che la gelosia non è esattamente il tema del romanzo, ma se non si coglie il tema della gelosia non si capisce la sofferenza mentale. E così se non si capisce quella sofferenza mentale e spirituale non si capisce tutto il tema sociale che viene messo. Cioè tutto è dentro questo romanzo estremamente connesso in maniera inestricabile, come se i personaggi appunto si muovessero dentro un labirinto. In realtà la gelosia stessa è una passione dentro la quale le persone, quando ci si trovano, percepiscono in qualche modo di avere perso la propria libertà. Per cui un ulteriore livello di lettura. Questo è un romanzo estremamente complicato, mi premeva farvelo notare. A questo punto il nostro tempo è concluso e con questo si è concluso anche l'intera stagione di Oggi Parliamo di Libri. A me fa piacere salutarvi, ringraziarvi dell'ascolto che mi avete dedicato, ringrazio anche tutti i colleghi della radio per la cortesia, la pazienza e anche il sostegno che mi hanno dato in mille cose. Sarò contento se avremo l'occasione di rivederci dopo l'estate. Nel frattempo vi ringrazio ancora dell'attenzione, vi auguro un buon riposo, una bella estate, andate al mare sotto l'ombrellone. Se vi capita di leggere, pensate ai nostri appuntamenti settimanali. Da Roberto Sedda, ancora grazie. Grazie.